Cluso, fermato da Cannavalo, il pallone per Camoranisti. Nesta si stacca, grandissimo intervento, la parte di Nesta e l'applauso. Fernando Torres ha detto che il principio di distanza è il primo, e non è vero, è vero. Nemi, ottima però la chiusura su Parca. Questa è un giro, è un giro, è un giro, è un giro, è un giro. Questa è un giro, è un giro, è un giro, è un giro. Questa è un giro, è un giro, è un giro, è un giro. Non è vero. Ma mia! Il palo! Clamoroso! La palla viene l'acqua! Il giro! Il giro! Il giro! Il giro! Si, ochre! C'era un latt》 Il giro! Il giro! Imbéning Nezicam Gagos Il giro! Imbéning Nezicam Maありがとうございました Sì, Ramos e Drenz, dove vissi, dove vissi. Voi fuori da lei. Il giocatore, come giocatore! Il giocatore! Il giocatore! Il giocatore, perché è stato molto rispettato. Il giocatore, come giocatore. Ma, ovviamente, non è il minimale. Il giocatore! Il giocatore, come giocatore. Il giocatore, come giocatore, è in una attività. Il giocatore, come giocatore, come giocatore, come giocatore. L'ultimo momento! Un'altra! Pettri, ma che ho detto prima di ora. Il giocatore che può cambiare. Talikamid Degi che vissi, e Nesta ha travato! E che va? Buongiorno! 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 Potrebbe essere un gioco! Chiolini! Ma come si può fare questo? Si è venuto in questo posto, altrimenti Valparo ha dovuto scoprire dietro lui. Buongiorno! Scoperto! 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 Ah! Non è la mano! La luce diarsene La luce della luce dopo una grande pausa, dopo una grande perdita Adabayor in борovo con Neste E' da chi è venuto? Anri! Anri! Esatto! Lo scoperto! Non è bellissima Fabio Fernavaro 32 anni D'acquanto non è giusto E' un'espazione E' un'espazione E' un'espazione E' un'espazione E' un'espazione Mi piace. Calazzi, rovesciato di Dio Piero. Dida! E poi Nesta. Quindi Zambrotta che prova a calciare di nuovo. Tacchinardi. Arriva Dida. C'è la Nobile, un gran pallone per Buracchi. Ma è grandioso il recupero di Giorgione Chiellini. Che metta il piano. Non ti si può subire, c'è la palla. Che ti faccio? C'è la nobile, assolutamente невероятно. Pannucci. 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 Il due a due era un risultato facile per il Milan. Pannucci. 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 Pannucci.